Siamo pronti per questo super evento che è stato fatto oggi presso la nostra concessionaria qua a Torino, grazie a connessioni per la prima volta c'è stato il connubio tra Yamaka Musica e Yamaka Moto, tante persone ancora non conoscono le cose che può fare Yamaka nel settore audio, strumenti e tante altre cose, come persone pratiche di quelle non sanno tutto quello che c'è nelle moto. Quindi è stata un'occasione unica per far sì che le persone potessero conoscere il mondo della moto e il mondo di Yamaka Musica. Questa cosa è stata eccezionale, siamo contenti di tutte le persone che hanno potuto partecipare a questo evento e speriamo che grazie a connessioni si possa ripetere presto.